Mi sento morata e felice di poter partecipare a questo bellissimo galà di danza nella città di Avella dedicato a Riccardo Munez. Ringrazio di cuore Rosa Varriale e Francesco Imperatore per averlo organizzato con tanto amore. Riccardo è stato per me e penso per tutta la danza una vera personalità. Ho avuto la fortuna di poter lavorare con lui non solo in veste di maestro ma soprattutto di poterlo vivere nei momenti della creazione. Ho così potuto vivere le sue tante sfaccettature sempre molto esigente, attento al dettaglio, estremamente sensibile ed intelligente. Anche, devo dire, con un grande senso dell'humor. Ciò che lascia in me è una bellissima memoria di autenticità e verità. Quasi potrei dire un distacco appassionato dalle cose. Durante la serata gli dedicherò un pezzo che è una preghiera dell'anima a Dio, all'universo, a ciò che viaggia nel tempo e trova la pace.